Svuota la mente, rilassati, 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 svuota la mente, rilassati con me, con questo suono, mentre ruoto, 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 e sui giù, sui giù, sui giù, sui giù, sui giù. E' velocissimo per te, velocissimo, e aggressivo. Andiamo, 3, 2, 1. Che ne pensi? Ruoto, 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 ruoto. Già stai dormendo, o sei ancora con me? Dai. Sui giù, 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 sui gi Mi sto fidando di te che hai gli occhi chiusi, ok? Ok. Benissimo. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. E bentornato sul mio canale Fast Dingles ASMR. Oh, privi di veloci. Dunque, ti ho promesso un video interamente in italiano con questo trigger, quindi io partirei subito. In 3, 2, 1. Iniziamo con la cover sul microfono. E questo movimento è già sai la parola che adesso dirò. E dunque, vuoi dirlo insieme a me? Che mi dici? La diciamo insieme? Sei pronto? Sei pronta? Ok. Usa? S spel C Alsije consuma il botale E' di io. Ruoto ruoto ruoto. Ruoto ruoto ruoto. Ruoto 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 ruoto. Ruoto ruoto ruoto. La cover così. Ottimo lavoro. E sono fiera di Dè. Ok, ok, ok. E un po' di movimento. Su e giù in 3, 2, 1. Di solito cosa dico? E' dunque. Su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Shaking. È meglio in inglese. Shaking. Shaking, shaking, shaking. Su e giù, su e giù, su e giù. L'acqua verso il microfono così. Su e giù, su e giù, su e giù. Su e giù, su e giù. E ruoto. Su e giù. veloce e aggressivo, veloce per i tuoi brividi, veloci, ecco perché fast tingles, e ok, segui il suono della mia voce, concentrati, e ruoto, 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 cosi, le mie mani sulla cover, cambiamo un po' il movimento, cosi, cosi, andiamo a velocizzare anche il ruotare della cover, che ne dici? Ci proviamo, tre, due, uno, che ne pensi? alterniamo, cosi, e cosi, cosi, e cosi, cosi, e cosi, e su, e giù, e giù, e giù, e su, e giù, e su, e giù, up and down, su, e giù, lo dico così magari chi non parla italiano riesce a capire più o meno che cosa sto dicendo, up and down, e su e giù, su e giù, su e giù, è velocissimo per te, velocissimo, e aggressivo, e ruoto, 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 ruoto La differenza dell'inglese e l'italiano dovrei sempre dire due volte al femminile e al maschile e non so se mi stai guardando se è femmino, ma se è ragazzo o ragazza, quindi devo dire tutto. La differenza dell'inglese è così, e dunque, ti sei addormentata, ti sei addormentato, già sei dormendo, o sei ancora con me? Dai! veloce Bene, 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 bene Bene, 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 bene Bene, bene è perfetto Come un helicottero e di nuovo 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 e potrei continuare continuare dipende da te di cosa vuoi dimmelo tu fammelo sapere e su, giù, su, giù, su, giù e ruoto e su, giù, su, giù e ruoto e su, giù, su, giù e ruoto e su, giù e ruoto e su, giù e ruoto su, giù e squadramanica Se l'ho eccio e ruota Chiudi gli occhi Ottimo lavoro Mi sto fidando di te che hai gli occhi chiusi, ok? Ok Benissimo E concentrati sul suono Della cover Così Che fa sui giusto 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 il microfono E questo suono particolare Ok, bene Bene Ottimo lavoro Sono fiera di te Ok, spero che ti stai rilassando Continua così Svuota la mente Svuota la mente Rilassati, rilassati, rilassati Svuota la mente, rilassati con me Con questo suono Mentre ruota, 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 ruota Ruota, 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 ruota Bene Benissimo bravo, 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 e dunque spero di rivederti presto, spero tanto, tanto, tanto di rivederti presto, a qua, a un altro video, perché ne farò altri, sì, 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 gli italiani, l'inglese, come vuoi. Ma allora ci vediamo, promesso, e se sei nuova, se sei nuovo, e non ti scordare di iscriverti al canale, e avrai tutte le notifiche in tempo reale di nuovi video, eh sì, allora ti sei iscritto, bene, benissimo, e dunque ti auguro buonanotte, o buona giornata, o un buon pomeriggio, dipende a che ora stai guardando questo video, io non lo so, addio me lo tolgo, e ti saluto con un piccolo shaking, veloce, e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, ok? Va bene? Ciao, 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 ciao.